Stiamo provando la testata Blackstar ID60 che ha una fantastica particolarità. Questo bottoncino qua aziona il True Valve Power. Che va a simulare l'effetto del vero suono della valvola. E' possibile selezionare le KT88, le L6, le L34, KT66, le 6V6 e anche le L84 dando differenti sonorità, differenti timbre. Qui abbiamo le L34. Stiamo utilizzando una chitarra Schecter Damien Solo Elite che monta pick-up IMG 8185. Per maggiori informazioni potete visitare il sito rockandrollstore.net Grazie. 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 Grazie.